Incidente mortale intorno alle ore 20 di ieri sera a Serramezzana sulla strada provinciale Torre dei Cesari. Una Fiat 600 con a bordo un uomo classe 1975 per causa ancora da accertare è uscito fuori strada precipitando in un dilupo a 150 metri di altezza. Ad allertare i soccorsi sono stati dei cittadini che sentendo il forte rumore si sono subito precipitati in strada per capire cosa fosse accaduto. Immediato sul posto l'intervento dell'MSA di Castellabate dell'Associazione Givi di Battipaia con il supporto della rianimativa della Croce Gialla di Agropoli che hanno dovuto faticare non poco per calarsi nel dilupo con delle corde ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Si sospetta da una prima ipotesi del medico legale che l'uomo sia morto sul colpo. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per estrarre il giovane dalle laniere. Sul posto anche il magistrato di turno. Difficili anche le operazioni di rimozione dell'auto. Bisognerà ora attendere l'esame autoptico per capire se il 46enne ha avuto un malore o cosa sia successo che lo abbia fatto uscire fuori strada precipitando poi nel dilupo. La salma ora si trova presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Si chiamava Giovanni Di Paola ed era molto conosciuto nel piccolo paesino occidentano anche per la professione di falegname che svolgeva. Tanti messaggi di cordoglio sui social. La triste notizia si è velocemente diffusa. A lutto il piccolo comune di Serramezzana per la prematura scomparsa di Giovanni. Ho sperato fino all'ultimo, caro Giovanni, volevo esultare. Sì, proprio come abbiamo fatto insieme nel pomeriggio in piazza mentre guardavamo la nostra Italia vincere. Non doveva andare così, lo scrive il consigliere comunale del comune di Monte Corice. Rosario Meola, che conosceva bene Giovanni, ridevamo e scherzavamo ignari del crudele destino che ti avrebbe portato via da tutti noi, dai tuoi affetti, dal tuo paese. Eri un ragazzo d'oro, sempre gentile ed educato con tutti, una persona per bene. Ti porterò nel cuore amico mio, fai buon viaggio e salutaci tutti lassù, condoglianze alla famiglia.